Non intendiamo parlare per molti motivi, possiamo soltanto dire che ha ritenuto per rispondere alle domande, ha rappresentato la sua linea di difesa e soprattutto ha inteso esternare il suo dolore e la sua angoscia per quello che è accaduto, al di là di quelle che saranno le valutazioni che i giudici potranno fare. È un ragazzo molto provato per questa esperienza e confidiamo che anche il suo stato d'animo meriti un minimo di rispetto, meritano rispetto ovviamente i dolori delle famiglie di queste due ragazze. Sulla dinamica non ci volete dire niente di quella ricostruita da Giovese? No, siamo di vecchia scuola e riteniamo che quello che è stato detto con il giudice attualmente non possa essere regalato. E' ottimista? Come? E' ottimista? Ma io di natura non sono né ottimista né pessimista, sono moderatamente realista. Come sta Pietro Genovese? Come sono stati questi giorni ai domiciliari? E' affranto, è un ragazzo distrutto, devastato dal dolore per quello che è accaduto.